ok quindi andiamo avanti con la seconda parte della mattina e parliamo di come fare l'API ne abbiamo visto due molto semplici e le ho guidate io ho deciso io slash api slash courses cerchiamo di fare una cosa che abbia un senso quindi diamo qualche concetto su come organizzare queste API e poi proviamo a fare un paio di API un po' più complicate quindi una post magari con la validazione dunque questo è lo scopo noi abbiamo l'applicazione che è il front end e poi abbiamo dove teniamo i dati i server qui chiamiamo services nel senso che sono servizi che mettiamo a disposizione per interrogarle a base dati e gestire la base dati nel nostro caso sono degli URL HTTP accessibili con metodi HTTP cosa mettiamo in mezzo? come organizziamo la parte in mezzo? notate che questa organizzazione che stiamo per fare potrebbe andare bene anche per altri tipi di client quindi che so più applicazioni mobili cioè fatta questa parte server poi questa parte server come dicevamo in una delle lezioni passate può andare verso diversi client ok abbiamo deciso uno di codificare le informazioni in JSON perché? perché è comodo adesso vi farò vedere qualcosa del JSON proprio il minimo indispensabile da sapere perché abbiamo librerie, lato client, lato server che ce lo gestiscono bene e poi dobbiamo definire degli URL che rappresentano diciamo le attività che possiamo svolgere sulla base dati ok quindi due parole su JSON JSON sta per anzi JSON a dire la verità perché l'accento sarebbe sulla prima va bene JSON sta per JavaScript Object Notation che è più o meno come la sintesi JavaScript per scrivere gli oggetti è un subset un sotto insieme facile da leggere leggibile dagli umani no? lo standard tutto quello che volete application JSON nel media type quello che vediamo nel content type funziona così ci sono dei tipi primitivi string, numeri boolean, null le stringhe devono usare il doppio apice non il singolo occhio che questa è una delle cose che si sbagliano spesso no? cos'ha questo JSON che non va come mai non lo parsifica perché non funziona perché magari l'ho scritto io a mano per far prima ho messo gli apici singoli che in JavaScript funzionano in JSON no posso fare degli array aprendo la quadra come in JavaScript posso fare degli oggetti aprendo la graffa come in JavaScript le chiavi sono tutte stringhe non sono identificatori quindi non sono variabili non si possono fare variabili sono dati quindi o è stringa o è numero o true false fine e siccome sono stringhe devono avere il doppio apice e non posso scrivere nome due punti ma devo scrivere virgolette nome più virgolette due punti in JSON ok mentre in Java scritto posso farlo ed è visto comunque come una property dell'oggetto quindi esempio di JSON apro graffa un oggetto con delle chiavi dei valori due punti valori il valore può anche essere un tipo complicato quindi un altro oggetto così come può essere un array e dentro l'array possono esserci altre cose oggetti stringhe numeri eccetera molto semplice non siamo abituati a JavaScript non c'è niente di particolare come si usa in JavaScript c'è un oggetto particolare che si chiama JSON già predisposto non abbiamo bisogno di importarlo quindi lo trovate qui non c'è bisogno di fare niente di particolare che ha due metodi sono i due metodi principali che useremo stringify crea una stringa dall'oggetto JavaScript che passo funziona ricursivamente sugli oggetti array annidati quindi ci va a esplorare tutto il contenuto e ci crea una stringa una stringone diciamo così ovviamente non può trasformare in string le funzioni se ci sono delle funzioni dei valori undefined eccetera questi non li gestisce il contrario è il parse gli diamo una stringa quindi una stringa e lui ci crea un oggetto un oggetto JavaScript con dentro gli altri oggetti array eccetera secondo qual è la descrizione che è stata fornita il prototype dell'oggetto creato è sempre object va bene questa è una piccola limitazione nel senso che non è che possiamo ricreare l'oggetto esattamente uguale a quello che c'era originariamente in JavaScript dall'altra parte perché magari uno l'aveva ancora creato col costruttore questo person e se non glielo dico questo non è che sa che era un'istanza se così possiamo chiamarla dell'oggetto person della classe anzi person vabbè se lo vogliamo fare si può si può fare ma non diciamo non è mai un problema anche per per come usa JavaScript gli oggetti non è che abbiamo questa necessità di andare a ricreare esattamente l'oggetto col prodotto ok quindi diciamo che lato JavaScript lato JSON abbiamo risolto il nostro problema stringify parse quel metodo punto JSON in realtà dentro fa lui da solo lo stringify però abbiamo intravisto che il sender ha fatto lo stesso anche se non me l'aspettavo va bene il parse sarà invocato nel momento in cui diremo poi al middleware occhio che se c'è il contenuto JSON io lo voglio parsificato vabbè ma se lo farà il middleware da solo ok veniamo agli URI dunque che differenza c'è io dico sempre URL ma in realtà sarebbe più corretto dire URI uniform resource identifier I sta per identifier L L sta per location location sarebbe il completo no? nel senso con il protocollo e tutto quanto un identifier è più generico no? è un identificatore di qualsiasi cosa una risorsa non per forza un URL web no? dunque noi distinguiamo principalmente tra due tipi di URI quelli di tipo collection e quelli di tipo element uno indica un insieme di elementi e l'altro indica un elemento singolo noi qui stiamo dando delle linee guida tra l'altro l'anno scorso ragionavamo in termini di rest però ci è sembrato un po' troppo pesante poi diciamo ci vorrebbe più tempo di nuovo per fare un discorso approfondito su come adeguarsi alla filosofia rest eccetera poi abbiamo visto anche quello che veniva fatto all'esame insomma non è fondamentale per farlo funzionare quindi quest'anno abbiamo detto vabbè cerchiamo di dare delle linee guida se vi attenete a queste linee guida come sempre è bene perché riteniamo di darvi delle linee guida utili che cercano di fare sbagliare il meno possibile non è fondamentale se qualcuno poi diciamo si inventa la sua API vabbè se ha un senso si può anche accettare si accetta nel momento in cui vogliamo rappresentare un insieme di risorse una lista di risorse una tabella diciamo così lato server slash e diamo un nome adesso collection qui è generico ma potrebbe essere courses i corsi gli esami eccetera vogliamo un elemento come lo identifichiamo nome della collection barra un identificativo avrà un identificativo nella tabella che sia la chiave primaria che sia un id messo da database codice corso il numero del task no? queste cose qua e quindi diciamo che avremo una sintesi di questo tipo questa è tutta la collection questa è un un elemento della collection identificato tramite un identificativo unico ecco best practice possibilmente usiamo dei nomi e non dei verbi non barra aggiungi barra aggiungi non vuol dire niente barra c'è già il verbo http per fare la cosa no? se farò una post su un barra courses vuol dire che aggiungo non lo chiamo barra aggiungi o barra aggiungi corso non è una best practice funziona lo stesso però non è una best practice usiamo nomi plurali perché? perché sono collezioni quindi plurale normale usiamo nomi concreti non items non cose oggetti barra oggetti non vuol dire niente barra corsi vuol dire una cosa barra esami un'altra barra task un'altra ancora barra persons un'altra ancora e ha senso no? invece se mettiamo barra items barra elementi non vuol dire niente funziona e di nuovo sono best practice cosa dobbiamo andare a fare su questi URI no? su questi diciamo percorsi che definiamo no? barra collection barra id se necessario fondamentalmente dobbiamo sempre fare le stesse operazioni che sono l'aggiunta la cancellazione la modifica qui è scritto update no? dunque il recupero no? qui diciamo che è rappresentato da find search in maniera più o meno sofisticata forse il recupero è interessante perché non sempre vogliamo tutto no? cioè di default come prima abbiamo preso tutto ma potremmo dire dammi solo i corsi del 2020 dammi solo i corsi del 2020 che non so seguo io e vedremo poi come raggiungersi questa cosa oppure dammi dammi che so solo i task importanti no? eccetera oppure fare delle ricerche dammi tutti i task che contengono la parola pippo e così via no? quindi è un altro modo di farsi dare dell'informazione quindi non è un'aggiunta non è un cancellazione non è un aggiornamento ma è un recupero di informazione che soddisfa certe condizioni quindi in mezzo ci mettiamo tutte queste operazioni no? noi abbiamo definito new rai e vi abbiamo dato una best practice abbiamo detto che i dati li vogliamo in json e li vorremmo anche all'esame in json e poi dobbiamo implementare le operazioni per fare per implementare le operazioni usiamo i metodi http quelli che abbiamo visto prima il get per recuperare informazione il post per creare un nuovo elemento una nuova risorsa nella collection il put per andare a modificare un qualcosa che già esiste e il delete per andare a cancellarla il get ci servirà anche a filtrare le cose eccetera quindi per esempio come dicevo prima voglio solo quelli che contengono una certa parola voglio solo quelli importanti eccetera ok le risposte arriveranno nel http response body solo il delete non ha una risposta perché in realtà ci basta il codice cioè se vogliamo la risposta può essere l'errore ma di per sé se ha successo non c'è niente da dire quindi get post put delete metodi http se operano sulla collection slash courses il get ci trova tutto quanto o eventualmente con una query qualcosa di specifico il post ci aggiunge un elemento che dovrà quindi arrivare nel body della richiesta la put del delete sarebbe meglio non usarle sarebbe aggiorna tutto cancela tutto ma meglio non usarle se operiamo su singoli elementi quindi slash course slash codice il get ci dà le informazioni di solo a quell'elemento il post non ha senso usarlo perché esiste già posso crearlo qui è proprio non ha senso put invece ha senso nel senso che se voglio aggiornare qualche campo lo posso fare ripiazzo qualche campo e il delete ovviamente cancella quell'elemento quello specifico elemento identificato nella uri uri quindi esempio in pratica dogs qui è corsi ma diciamo dogs cani get ci dà la lista dei cani di tutti o eventualmente se mettiamo poi delle parametri sotto forma di punto interrogativo qualcosa quindi come query qualcosa di specifico post su dogs crea un nuovo cane put da evitare così come il delete dogs 1 2 3 4 l'identificativo del cane se facciamo una get ci dà le informazioni solo di quel cane non di tutti questo non dobbiamo farlo la post e la put se l'elemento esiste aggiornerà le informazioni passate nel body e se facciamo il delete cancella l'elemento quindi questo è lo schema che dovete tenere a mente quando fate le vostre API quindi queste sono le operazioni logiche che possiamo andare a fare sui dati listare i dati recuperare le informazioni di qualcosa creare aggiornare cancellare come si fa get post put delete patch possiamo lasciarla da parte e tra l'altro sono anche le cose suggerite da Google ogni organizzazione ha un po' il suo modo di organizzare le API diciamo che noi ci atteniamo alle best practice più utilizzate cosa c'è nel body c'è la risorsa quando creiamo o aggiorniamo e nella risposta se una lista ci sarà la lista se no ci sarà il singolo elemento che è stato creato per esempio che include poi l'ID creato dal database oppure l'elemento aggiornato eventualmente è cambiato qualcosa c'è ancora una piccola cosa da sistemare nel senso che i dati non sono semplicemente delle liste nel senso che l'abbiamo già visto nell'esempio dei corsi sono corsi ma ci sono anche gli esami e spesso abbiamo bisogno di metterli insieme voglio gli esami di un certo utente non è che posso dire voglio tutti gli esami e poi me li filtro io non avrebbe neanche senso un elemento può avere una relazione 1 a 1 1 a n con altri elementi io studente ho una relazione 1 a n con gli esami quindi che so posso usare una sintassi di questo tipo collezione studenti la mia matricola e poi quelli della collezione corsi collegato o esami collegati alla mia matricola uno sono quelli da seguire gli altri sono quelli che ho dato quindi posso costruire URL URI più lunghi con questo formato di solito collezione identificativo collezione per mettere insieme due collezioni sulla base di un identificativo della prima è come se facessi una join delle tabelle quindi vai nei corsi apprende solo le informazioni relative a questo student con questo identificativo ovviamente funziona anche a rovescio ma potrebbe avere un significato diverso vai nella lista dei corsi prendi un certo corso e prendi tutti gli studenti collegati a quel corso ok questa semantica cioè il significato cosa corrispondono questi URL lo decidiamo noi quindi siamo noi che quando creiamo l'API lo decidiamo se abbiamo bisogno di qualcosa di più complicato evitate di fare degli URL chilometrici perché poi sono un poco mantenibili e sono un poco flessibili perché la struttura dell'URL è fissa ciò che è variabile è ciò che mettiamo dopo il punto interrogativo in una richiesta get parametro uguale value and parametro uguale value eccetera quindi se noi abbiamo bisogno di filtrare le cose in qualche maniera vogliamo solo fare una ricerca solo i task che contengono la parola pippo punto interrogativo search uguale pippo oppure vogliamo solo i potremmo dire vabbè screen name twitter ip account ecco vogliamo vogliamo solo 20 risultati dei 2000 che potrebbero uscire ok punto interrogativo count uguale 20 ok quindi quando ci sono informazioni che non sono strettamente collegate ai dati ma sono addizionali per ridurre o comunque filtrare il risultato di una richiesta di una lista bene uso questo formato questo è il nostro consiglio non è che sia obbligatorio però di nuovo è un consiglio che speriamo che seguiate perché diciamo evita di creare questi url creare un nuovo url vuol dire creare una nuova entry nella come si dice nel nel nostro file server node cioè creare una nuova root se invece aggiungiamo un parametro dobbiamo semplicemente gestire quel parametro magari sono due righe di codice da qualche parte è già quasi tutto pronto ok c'è solo ok vabbè c'è qualcuno che ci scrive privatamente non è andato facendo si vede che non sta seguendo la lezione errori ecco come gestiamo gli errori beh prima di tutto mandiamolo come status status code dell'http come abbiamo fatto prima il 500 oppure lo farà il server per le root che non sono implementate 404 not found eccetera se possibile inviamo anche delle informazioni su come funziona su qual è stato il problema anzi come ha funzionato la richiesta e quindi diciamo più possibile cerchiamo di essere informativi verso l'applicazione perché poi l'applicazione deve dare un feedback all'utente cioè non so se a voi è mai capitato la cosa che forse ti ha più fastidio nell'applicazione è quando ti dice error e non sai cosa è successo cerchiamo di dare un feedback ragionevole all'utente senza poi necessariamente scendere nei dettagli perché l'utente non se ne fa niente di sapere che la query non ha risposto eccetera tra l'altro non è neanche detto sia bene esporre queste informazioni in un contesto reale però dirgli guarda non ho trovato la risorsa è un messaggio un po' meno generico di error basta oppure il database è temporaneamente non disponibile se volete riprova più tardi è un qualcosa di ragionevole cioè non è colpa tua guarda in questo momento c'è un problema e riprova più tardi ok quindi come andare a creare queste API e vi dicevo noi abbiamo dato dei consigli vi inviterei a seguirli ci sono delle linee guida non è che si può dare uno schema generale perché dipende da cosa deve fare l'applicazione bisogna un po' calarsi nel contesto dell'applicazione è un po' come dire che funzioni faccio quando programo devo un po' capirlo mano a mano che sviluppo l'applicazione o possibilmente prima nel momento in cui mi faccio uno schema di cui potrebbe funzionare la nostra l'applicazione e poi ci saranno delle linee guida degli chiamiamoli standard se vogliamo nelle grosse organizzazioni ovviamente non è che si lascia che ogni programmatore faccia come meglio crede magari hanno anche buone idee ma poi per poter mettere tutto insieme è bene che ci sia un filo conduttore di fondo quindi se voi prendete Google API design ci saranno delle indicazioni che sono più o meno tra l'altro quello che abbiamo dato quindi resource names metodi standard eccetera quindi collection parla di resource collection id e tutte queste cose qua quindi adesso non è il caso di andarsi a leggere tutta questa roba qua ma diciamo che ci siamo attenuti alle convenzioni più in uso quindi con quelle poche cose che abbiamo detto vi attenete alle convenzioni più in uso come andarle implementare in express sono normali richieste HTTP quindi nel momento in cui noi le abbiamo definite ci siamo fatti lo schema mentale e tra l'altro l'esame vi chiederemo di scriverle nel readme è una cosa importante perché da lì si capisce già come avete organizzato l'applicazione per i laboratori invece non credo sarà richiesto perché vogliamo tenerlo ovviamente un po' leggero però dovete farvi questo schema nel biglab2 quindi ragionarci sopra e fare quelle 4-5 API che vi servono noi una volta che abbiamo questo schema creiamo le corrispondenti root HTTP nel server come abbiamo fatto nell'ora e mezza precedente cosa abbiamo da gestire in più e adesso proviamo a farlo il parametro quindi prima dicevamo docs1234 e 1234 dobbiamo essere in grado di agganciarlo facilmente se no diventa un incubo fare queste cose passiamo tutto in JSON l'abbiamo già visto per parsificare ciò che ci arriva ecco ci serve quel middleware per la risposta evidentemente diciamo ecco si fa già da solo e poi importantissimo vedete che è scritto tre volte questa è una sorta è uno degli errori più frequenti all'esame mi raccomando sempre validare i parametri di input perché quando ci arriva una richiesta get come quelle che abbiamo visto prima get courses non c'è niente da validare si chiama courses e non è courses do errore fine se mi arriva docs1234 allora se io mi aspetto un numero e poi non c'è un numero mi creerà un problema perché perché da qualche parte nella mia applicazione avrò assunto che quello è un numero che so nella colonna del database io mi aspetto che quella numero sia appunto un numero non una stringa perché perché così l'ho definita piuttosto che mi aspetto che ci sia un email quando userò la userò per spedire un email non funzionerà quindi sempre validare che quello che vado ad utilizzare dai parametri che mi arrivano da fuori nel server sia quello che mi aspetto a livello formale un email poi chiaro che non so se l'email funziona fino a che non la uso però se un email deve avere una chiocciolina e deve rispettare tutta una serie di altri parametri mi raccomando non diventate matti a scrivere voi questo codice usiamo i middleware per fare la validazione e quando c'è bisogno li usiamo e impariamo usarli abbiamo già intravisti la validazione spesso è relativamente semplice nel senso che mi aspetto che il codice del corso sia 5 caratteri e vabbè cercherò verificherò che sia almeno 5 massimo 5 mi aspetto una data abbiamo visto prima c'è is date in uno dei middleware di validazione vorrò che ci sia scritto anno mese giorno aspetto una data un'ora e deve esserci anche ore minuti e così via perché devo fare la validazione perché chiunque può collegarsi e mandarci quello che ci pare e l'esempio ve l'ho fatto vedere nel senso non ci piace scriviamo pippo posso mandare quello che mi pare al mio server api exam exam ha applicazioni web 1.30 adesso qui ho fatto una get faccio una post e mi metto il mio exam 32 gli metto 32 se non ho verificato che sia 30 gli metto 32 31 massimo gli metto 32 chiunque può fare le richieste non solo i dati non arrivano solo dalla nostra applicazione nel caso normale arrivano dalla nostra applicazione se non ho fatto pasticci se l'utente non ha messo cose strane che io non ho verificato sulla applicazione andrà tutto bene ma anche se l'ho verificato nell'applicazione io posso mandare quello che voglio al mio server l'utente può mandare quello che vuole al server adesso qui fa solo richieste get ma tra un istante proviamo a fare anche le richieste post una volta che l'abbiamo implementato vi faccio vedere come farlo semplicemente del browser poi si potrebbe fare anche dal di fuori del browser quindi mi raccomando è assolutamente importante validare i parametri di input una cosa che guardiamo e guardiamo abbastanza attentamente all'esame ma non solo per l'esame perché diciamo tutte le applicazioni poi quando scrivete la parte server cioè tutte le volte che c'è un buco di sicurezza qualcuno che entrava a tirar via i dati dove non dovrebbe accesso dei dati che non deve eccetera è perché la parte server non ha validato correttamente qualcosa magari l'autenticazione magari gli d magari non lo so qualcosa qualcos'altro che ha concesso di fare delle operazioni non previste che il risultato è che con un risultato che non volevamo ok un discorsone mi raccomando per dire bisogna sempre validare buona pratica ed è ciò che ci salva poi dei problemi più avanti in generale nel corso ma non solo nel corso anche fuori e nei contesti reali è noioso farlo ma bisogna farlo e nessuno deve dire ma io nell'applicazione client ho verificato chi è non conta niente chi vuol creare un problema non usa la vostra applicazione l'applicazione può essere la migliore possibile ma chi vuol creare un problema non usa la vostra applicazione bypassa la vostra applicazione ok quindi qui trovate come implementare le cose più semplici noi abbiamo già visto questa a sinistra app get courses tutta la collection abbiamo chiamato api courses abbiamo provato col den avete visto anche nel momento che abbiamo un parametro dopo aver validato il parametro possiamo usarlo e andare a recuperare l'informazione relativa al parametro get post vogliamo aggiungere ok prima di aggiungere dobbiamo recuperare l'informazione dal body mentre qui era un parametro qui è un body perché? perché c'è un'informazione più complessa cioè c'è che sono tutte le caratteristiche dell'esame l'esame applicazioni web 1 ho preso 30 load e in data x sono tre campi di un oggetto json che ci arriva perché json? perché l'abbiamo deciso noi perché abbiamo detto che è semplice facciamo così quindi andiamo in pratica a vedere di implementare alcune di queste root nel tempo che ci manca alla fine della lezione allora quindi abbiamo sempre il nostro server dunque ecco server quindi avevamo API exam facciamo la get come vedevamo sulle slide con un parametro i corsi con il parametro allora quindi una volta che abbiamo scritto un pezzetto ovviamente ricicliamo da bravi programmatori copy paste come faccio a fare una root? allora prima di tutto devo decidere come voglio la root adesso qui sono partito dicendo faccio così poi però prima di andare avanti voglio ragionare sulle root con voi quindi che cosa mettere adesso qui vediamo di farne funzionare una quindi corsis dunque abbiamo messo code lo chiamiamo noi lo decidiamo noi possiamo chiamarlo pippo però come sempre se chiamare le cose pippo poi non ci capiamo più niente lo chiamiamo code ok cosa ne facciamo adesso dobbiamo prendere e andare a leggere andare a leggere l'informazione dal database e darla indietro vediamo se nel DAO abbiamo già qualcosa che ce lo fa perché avevamo il select asterisco cioè in tutto o where code uguale c'è il get course che prende come parametro il codice e ci darà il corso resolve col corso se lo trova altrimenti not found quindi qui abbiamo già un pezzettino in più bisogna stare all'occhio perché può darsi che non ci sia un errore di gestione del db nel senso la query è corretta ma semplicemente il corso non c'è ok quindi lato server try async no async rec res try eccetera allora recuperiamo l'informazione dal dal dall'url come abbiamo detto che la recuperiamo rec param a params params uguale sì code questo è punto code perché qui abbiamo scritto punto code se era appunto due punti pippo era punto pippo dunque allora io qui anziché list courses c'era get course era get course sì ok in questo momento permettetemi di fare così poi lo aggiustiamo perché non si è spostato vabbè riscriviamo rec params code ok quindi qui tiriamo via e scriviamo attenzione attenzione manca validazione manca perché perché vi ricordo ricordatevi sempre di fare la validazione adesso ci manca poi l'aggiungiamo se abbiamo tempo però prima dobbiamo almeno concludere qualcosa di significativo ok courses diciamo che salvo errori no noi beh in realtà non è courses cosa ci dà questo questo ci dà un oggetto solo posso chiamarlo courses ma di nuovo se lo chiamo courses mi confondo no consentitemi di chiamarlo result perché perché ci può anche essere l'errore quindi result lo mandiamo indietro in formato json se c'è un errore ok 500 end va bene salviamo e cominciamo a vedere se funziona questa non è la versione finale è solo l'inizio per vedere se qualcosa funziona formattiamo anche un po' bene ok quindi adesso abbiamo apicourses slash qualcosa allora apicourses ed è quella di prima consentitemi di andare a cercare il codice perché altrimenti non so come fare la richiesta e facciamo ctrl c ctrl b ecco che mi salta fuori solo quello che interessa a me ok 200 ok trovato risposta devo cliccarci sopra response codename cfu questo è l'oggetto serializzato in json quindi come stringa vedete che le chiave hanno tutte le virgolette qui possiamo osservare bene adesso che abbiamo parlato il json ciò che non ha le virgolette sono solo i valori numerici o i boolean e questo oggetto è ciò che abbiamo creato nel dao no perché noi qui l'abbiamo solo preso e passato cioè l'abbiamo creato qui sembra noi che abbiamo scritto il codice due punti il name due punti cfu senza le virgolette questo è javascript ci pensa il punto json qui a convertircelo in una stringa in formato json ok sì non ci sono cose su slack cosa succede in caso di errore quindi va bene io cambio codice abcd abcd risposta la risposta è tra l'altro sempre 200 perché così noi abbiamo fatto per ora risposta raw e un altro oggetto json error course not found chi l'ha creato l'abbiamo creato nelle dao perché? perché abbiamo fatto resolve error course not found perché facciamo così? è una convenzione stabilite una convenzione per gestire gli errori e poi attenetevi a questa io personalmente credo che una delle convenzioni più semplici sia creare un oggetto con una chiave errore però potete fare quello che volete se volete mandare diciamo qualcos'altro cioè la sola stringa è un po' poco flessibile perché poi quando saremo sul client finisce che dobbiamo fare un check se è arrivata una stringa se è una stringa c'è scritto questo quello e quell'altro se abbiamo qualcosa più facilmente manipolabile come un oggetto come una chiave nota che non riusiamo in nessun'altra parte forse è un po' più facile semplicemente questo però è una convenzione una convenzione che decidiamo noi visto che controlliamo sia il server sia il client quindi c'è ancora una cosa che non mi piace ed è quella che abbiamo visto un istante fa cioè mi è arrivato 200 ecco non mi piace dare ok se c'è stato un problema non è un internal server error non è un problema col database ma semplicemente non l'ho trovato c'è un codice apposto per il non trovato no? 404 usiamolo quindi if result error quindi se impostato error nell'oggetto che ci ridà il dao get courses dunque res status 404 punto e poi possiamo tranquillamente guardare anche l'informazione più di dettaglio non c'è niente di male else non c'è la chiave error in results res status 200 200 è opzionale nel senso che di default è sempre quello gson result ok facciamo la prova sempre provate ok course not found stavolta è arrivato il 404 risposta quindi ci clicco se questo è il codice di eders di eders grezzi e così vedete anche l'aprile 400 not found 404 ok adesso prima di andare avanti visto che abbiamo tempo ragionevole vorrei anziché mettermi a scrivere codice e andare avanti così ragionare con voi su come creare le api che ci servono per la nostra applicazione di esempio ricordate che ci sono la lista dei corsi degli esami quindi cerchiamo di farci uno schema mentale di che cosa ci può servire api quindi mi metto qui sotto e me le scrivo get allora tutte api va bene ah devo mettere i commenti va bene mettiamo i commenti così se non lo finiamo get api uno l'abbiamo già fatta abbiamo due collezioni c'è get courses e ci sarà se qualcuno ha delle idee diverse scriva su slack che le esaminiamo exams usiamo dei nomi usiamo dei nomi concreti non generici usiamo il plurale ok poi abbiamo detto che ci serviva l'informazione di uno specifico corso l'abbiamo appena creata api courses lasciamo pure due punti code così ci ricordiamo che è un parametro ok e poi cosa ci serve in realtà io i corsi li voglio editare li voglio aggiungere editare cancellare in realtà sono i corsi o sono gli esami in realtà non mi ricordo più no gli esami i corsi li decide il Politecnico gli esami quindi dobbiamo ragionare sulla nostra applicazione e se sbagliamo come in tutte le cose quando si programma si cancella si commenta si rifà e si aggiusta non è detto che facciamo tutto giusto al primo colpo anzi in generale faremo uno schema e poi ci accorgeremo che abbiamo dimenticato qualcosa o c'è qualcosa che si poteva far meglio quindi allora sugli esami get anzi scusate aggiungiamo un esame post api exams basta è uguale a prima post il fatto che io chiami post anziché get vorrà dire che poi questo riceverà un body con il contenuto dell'esame ok siccome lo voglio anche aggiornare voglio poter avere anche il metodo per l'aggiornamento put api exams ok idem il contenuto dell'esame anzi beh idem anzi mettiamo così ci restituirà eventualmente l'id se abbiamo necessità di un id adesso nel questo penso di no no non c'è necessità dell'id perché in realtà voi non avete un id necessariamente per il vostro esame perché perché identificato dal fatto che c'è un codice corso e poi in realtà ci sareste voi fate che dite l'esame vostro e quindi qui non abbiamo un id nel caso dei task del laboratorio invece avete un id un id perché non vogliamo basarci su altre cose dei campi del task no posso avere due task che si chiamano nella stessa maniera se mi va infatti miei non è non è non è massimo però vabbè in quel caso abbiamo deciso di dargli un id sin dall'inizio in fase di creazione il post ci restituisce l'id se è previsto dal database l'id ci arriverà dal database put put idem semplicemente diciamo di solito solito restituisce l'oggetto modificato così come modificato perché perché qualcosa potrebbe non andare a buon fine io voglio aggiornare un campo in una qualche maniera il server si rifiuta e me lo dirà e quindi mi darà indietro un oggetto che non ha quella modifica l'id qui c'è già nel senso che se faccio una put mi aspetto che poi ci sarà un put API exams e nel body nel body nel body ci sarà nell'oggetto anche l'id mentre prima non c'era perché deve essere creato ok e poi beh voglio cancellare no quindi ci sarà delete API exams e qui abbiamo detto non exams ma col codice giusto quindi abbiamo detto che la delete la usiamo in questa maniera ok ci serve qualcos'altro adesso ho dimenticato qualcosa non sembra certo se avessi un'applicazione più complicata avrei bisogno di poter aggiungere dei corsi rimuovere dei corsi eccetera ma questo diciamo è la segreteria non siamo noi mettiamola così cioè teniamo l'applicazione semplice i corsi sono dati se volete modificare la vostra applicazione andate nel DB col Seculite Explorer e ve lo fate noi della nostra applicazione gestiamo i corsi e gli esami scusate i corsi ok quindi abbiamo fatto il progetto delle nostre API ok seguendo la filosofia che abbiamo detto nelle slide pensate ai tasks dovete poi pensare nel laboratorio cosa ha senso fare ci sarà un get API tasks ci sarà un post per aggiungere ci sarà un put per aggiornare ci sarà un delete per cancellare eventualmente potete avere delle get particolari con dei parametri per andare a filtrare i task se necessario coerentemente con le slide il put non dovrebbe essere su API exam code sì sì diciamo ecco ci ho pensato mentre lo scrivevo se vogliamo essere proprio coerenti sì possiamo farlo va bene il fatto è che non potevamo parlare prima nelle slide dove è che le abbiamo messe non so se hanno una delle slide put in realtà non so non credo che se abbiamo messo fatto vedere resource urla sì ecco se vogliamo essere coerenti qua dovremmo scrivere API exam code diciamo che qui c'è un po' di tolleranza nel senso che siccome io qui ho un body a differenza della get cioè nella get il body non c'è se ci sono dei parametri o stanno qui o stanno dopo il punto interrogativo no non abbiamo il body nella put avendo il body a voi sul put nella collezione sì sì diciamo che è una questione filosofica ma nel senso che in realtà io qui ho scritto il put sulla collezione ma in realtà lavoro sull'oggetto quindi sì è vero diciamo se voglio attenermi per bene alle linee guida scrivo put API exam code ok il fatto è che avendo un body e nell'oggetto che passo nel body ci passerò anche l'id per comodità finisco per avere due parametri devo solo fare attenzione nel senso devo decidere che uno dei due è quello che prevale ok perché ho poi due due posti dove c'è scritta la stessa informazione bisogna solo stare all'occhio ok implementiamo qualcosa implementiamo la post che è la più interessante però ottima osservazione qui se vogliamo fare le cose coerenti a ragione dovremmo scrivere API la put è un po' particolare perché appunto o passo solo le cose che devo modificare o se passo tutto l'oggetto per far prima finisce appunto per esserci questa duplicazione allora scriviamo una post come si scrive come prima app punto mi lascio questo sopra come modello app punto post cosa scrive appunto put punto delete apro la tonda l'ho deciso prima l'urla API exams virgola allora mettiamo la sync la sync vabbè perché la vogliamo fare async perché ci scriviamo la wait se no la facciamo col den rec res scriviamo tutto perché se no se faccio il top in call allora tanto vale ok post validazione poi la sistemiamo però prima facciamola funzionare siamo all'inizio ok allora dove recuperiamo l'informazione l'informazione la recuperiamo dal body no quindi avremo un rec body ok in cui c'è l'informazione quindi qualcuno deve passarci un oggetto che contenga l'esame che voglio aggiungere come recuperiamo l'informazione del rec body diciamo nel body ci saranno i campi che corrispondono all'oggetto JSON che ci è stato passato in questo momento non c'è nessun oggetto JSON che ci è stato passato ok quindi ok che c'è rec body qui dovrei essere un po' più specifico facciamo esempio esempio in realtà forse prima ho detto una cosa sbagliata nel big lab 2 penso che vorremmo che voi scrivesse la lista dell'API almeno non la lista delle route eccetera perché viene più lunga però la lista dell'API perché praticamente tutto può far funzionare il client col server quindi nel readme quindi esempio noi passiamo un oggetto che ha questi campi cioè dobbiamo definire i campi campi li chiamiamo allora code uguale a qualcosa no code facciamo un code va bene facciamo così tanto questo è solo una documentazione per noi code cos'era score date quindi io mi aspetto di ricevere un oggetto con scritto code due punti score due punti dei due punti quindi c'è tre proprietà tre properties dell'oggetto ok e poi restituirò restituirò che cosa un oggetto ok ricevo restituisco dunque adesso non so cosa era stato implementato nel dao nel momento in cui lo creo create exam resolve this nast id quindi lui ci dà l'id però devo andare a vedere sulla soluzione cosa ho fatto const code await e l'han tagliata un po' troppo breve va bene restituisco 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 la stessa cosa con in più id uguale id uguale e poi come prima con due punti score due punti questo lo decido io date due punti e questa è la diciamo la best practice ok quindi in più ci sarà l'id che mi ha creato il database se se me lo crea oppure oppure semplicemente decido che non me lo crea e e allora e allora restituisco questo restituisco niente e decido io ok devo decidere e devo poi fare il resto dell'applicazione cioè il lato client coerente con la scelta che ho fatto ok per ora lasciamo così così ragioniamo su un caso un po' generale come fosse quello dei task allora io in rec body a questo punto ci trovo tre campi score code score e date quindi 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 troverò punto code punto score punto date cosa ne faccio? creo l'oggetto che mi serve per il DAO no? create exam exam ok? cost exam uguale un oggetto un oggetto che è quello che vuole il create exam devo andare a vedere come ho fatto la create exam la create exam l'ho fatta così non la facciamo noi qui per comodità per semplicità per accelerare un po' no? ma cosa fa? insert insert into exam course code date score values 1 2 3 no? vuole code date score quindi prende un oggetto come parametro che ha tre campi code date score quindi code anzi due punti date rec body date score rec body score ok sembra inutile vero? diciamo che in questo caso sì potrebbe essere inutile però però perché non è inutile? allora numero 1 se anche i campi coincidono quindi lo stesso nome e quindi avrei potuto dire const exam uguale rec.body se faccio così ho la certezza che qualsiasi altra cosa ci sia in body non viene preso e non viene passato numero 1 quindi prima di tutto sto già isolando un po' il mio DAO che è la cosa più preziosa quindi quello che eventualmente devo fare pasticci nella mia nella mia base dati dal resto da cosa mi arriva poi è vero che qui sto usando solo tre campi quindi se anche ne avessimo in più non sarebbe preso però essere come dire programmare in maniera difensiva è sempre la miglior soluzione per evitare il più possibile bachi soprattutto non voluti c'è qualcuno che ha scritto su discussion ma se scrive su live lecture è meglio perché non posso monitorare più canali alla volta quindi exam così comunque io qui elimino tutto ciò che eventualmente non mi interessa in più ho anche la possibilità di rimappare i nomi quindi se il code non fosse stato code l'applicazione lo chiamava in qualche altra maniera e qui lo chiamavo code questo code è quello che c'è nel DAO quindi ho scritto qui se era code2 io avrei potuto chiamarlo code2 rimapparlo quindi questa cosa serve a fare queste due operazioni si potrebbe anche scrivere const code.score uguale recbody sì dovrebbe potersi scrivere sì sì sintesi un po' più compatta cerchiamo cerco di non esagerare non confondere troppo le idee però sì dovrebbe potersi fare no però se fa così no const code.datescore mi crea tre variabili non mi crea l'oggetto no ah no ha messo le graffe sì 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 con le graffe dovrebbe creare l'oggetto si vede un poco perché sono piccole assomigliano alle quadre sì sì recbody è effettivamente un oggetto sì sì è un oggetto sì 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 occhio solo appunto se usate le quadre diventa variabile va bene ma non le ho usate ok a questo punto c'è da o create exam await richiede ritorno alla promise e poi e poi e poi devo vedere cosa mi ritorna resolve this last id vital id boh posso provare adesso onestamente non mi ricordo che ci fosse l'id nella tabella però forse c'è sculite explore proviamo e così tanto vediamo open database database dunque siamo no questo è un altro non so esempi server exams la tabella exam non c'è un id quindi in realtà sto dao è un po' non so cosa succeda se noi facciamo this id last id non è perfetto per questo esempio che questo è l'id se il database crea un nuovo id no quindi ogni tanto mettiamo le chiavi auto increment no tipo sui task questo sarebbe quell'id occhio vi ricordo usare function o non la row function perché se no il this non ci funziona più qui quindi se voglio gestirmi l'id dovrò prendere il valore di ritorno se non voglio il valore di ritorno non voglio fare niente res diciamo status 200 non è che mi piace tantissimo qui hanno messo enter perché dico non mi piace tanto 200 codici di di successo quindi http status code scodes benissimo wikipedia 200 ci sarebbe 201 che se vogliamo è più appropriato creato però diciamo queste sono sottigliezze se anche andiamo avanti col 200 va benissimo lo stesso fa lo stesso ok quindi abbiamo una versione base che possiamo provare giusto dovrebbe esserci quindi qui ho ricaricato il server come faccio a fare una richiesta post del browser ok quindi non posso scriverla qui ap exam io se scrivo così faccio una get exams se scrivo così faccio una get non è che posso fare una post per fare una post ho bisogno di qualcuno che parli http e mandi una richiesta post un programma esterno oppure io vi consiglio un plugin esistono tanti plugin io ho installato questo plugin per firefox nel laboratorio ci sarà poi scritto consiglio per firefox e per chrome che vi dico già qua c'è questo si chiama rest client quindi un'estensione rest client per mozilla firefox oppure c'è recbin non so se mi viene fuori c'è no mi viene venuto fuori perché questo è firefox vabbè se aprite chrome mettete recbin lo cercate in rete e un'estensione vi farà installarla sì ok perché abbiamo bisogno di questo semplicemente perché così possiamo fare una richiesta post oppure un output delete tutto quello che vogliamo post occhio che adesso non funzionerà perché voglio farvi vedere perché tutto funziona una volta che abbiamo messo tutto a posto quindi adesso facciamo http localhost 3000 siamo sul 3001 api exams e basta ok e qui però abbiamo il body che non ce l'abbiamo nell'word e quindi qui scriviamo anzi mettiamolo nei preferiti così ce lo ricordiamo body e avevamo code mi raccomando è code virgolette abc score sempre virgolette json 31 date 2021 05 06 e oggi ok faccio copia e incolla perché poi finisce che andrà perso ah io mando questa richiesta vediamo cosa succede send bottone send successo niente bene di qua qualcosa è successo vediamo cosa c'è che non va allora cannot read property code of undefined dove linea è un po' difficile da trovare la linea reject se no devo dirvi la risposta però non mi ah ecco 64 oh rec body code cannot read property code of undefined undefined rec body perché perché ci siamo dimenticati un pezzettino però stavolta almeno l'ho fatto apposta e il pezzettino è interpretare quello che arriva in json ok dobbiamo dirglielo è un middleware ricordate come si fa il middleware poi non funzionerà ancora perché c'è ancora un pezzettino e express json ok quindi mettiamoli sempre io adesso non l'ho messo per farvi vedere appunto che poi ci sono tante cose che possono andare storte non dovremmo aver bisogno di altro add qua dunque il server è ancora attivo quindi salviamo anzi avendo il node bon si riattiva riproviamo send non va di nuovo cosa c'è? allora not constraint fade exam course code quindi qui c'è qualcosa sarebbe stato carino a questo punto io vi farei vedere ecco tra l'altro qui potete anche debuggare perché perché nel momento in cui voi fate lo lanciate col debugger questo è un programma come quelli nod normali è vero che perdete cosa che vuole è vero che perdete la possibilità di diciamo che si ricarichi automaticamente eccetera eccetera però perché adesso non parte perché ho fatto qualche pasticcio con le configurazioni ok va bene quindi qui c'è un no però ho sbagliato io volevo fare va bene va bene anche se si ferma qua ok facciamo la richiesta di nuovo send ok siamo fermati non mancarei nella richiesta post sì è vero manca infatti ci arriviamo ecco perché perché così qui l'avevo fatto fermare per provare perché poi quando siete da soli dovete aggiustarvi nel senso rec body ah che se cattura body ok è un oggetto ma è vuoto no perché è vuoto cosa abbiamo fatto che non va il vostro collega ci ha dato la risposta su slack ci manca un pezzettino nella richiesta che è quell'header che ho sottolineato inizio di questa mattina cioè noi qui oltre a fare questa richiesta post dobbiamo anche in headers aggiungere un header custom header standard però lo dobbiamo aggiungere content type e ci mettiamo application json lui è furbo e ce lo suggerisce mettiamo favorite header così tutte le volte lo ritroviamo più in fretta ok quindi header content type application json adesso ho il server bloccato sul debugger quindi stoppo faccio ripartire tolgo tutto faccio terminal quindi lo faccio partire con il node mon stavolta dovremmo girare bene se non ho sbagliato qualcos'altro send ok questa volta ha risposto quindi abbiamo fatto la post la risposta la trovate qui sotto quindi questa è la no dove è headers si quindi status code 201 created vabbè un sacco di altri header che non ci interessano e poi trovate il contenuto in realtà il contenuto è vuoto perché abbiamo scritto end no non abbiamo andato niente indietro occhio appunto a quello che ha scritto il vostro collega cioè dobbiamo dobbiamo mettere content type json perché se no non si attiva lato server il middleware che parsifica il json cioè questo qua questo si attiva si vede poi negli header content type application json se no non si attiva e se non si attiva vuol dire che ci ritroviamo al body vuoto se si attiva invece se c'è un json lui ci mette i campi che 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 sono presenti nell'oggetto cioè di fatto rec body diventa l'oggetto json che ci è stato inviato la domanda su slack non è necessario fare parse no lo fa il middleware per noi si si lo fa il middleware per noi lo fa proprio il middleware per noi è proprio questa la cosa interessante però dobbiamo dirgli al mid dobbiamo fare in modo che il middleware capisca questa cosa il modo è content type application json e qui lo sottolineo non perché sia una cosa così del del rest client è vero sì anche se usate l'altro dovete metterlo ma perché sarà una cosa da ricordarsi di settare esplicitamente nel client quando mandiamo delle informazioni faremo una fetch su un post e dobbiamo mettere ricordarci di mettere content type application json ok se no il server non funziona correttamente ok va bene allora siamo riusciti a provare una post è già un grosso risultato vediamo di metterla a post quindi allora come abbiamo fatto prima se volete mettiamo il try catch no c'è sempre qualcosa che può andare storto catch quindi r e come abbiamo fatto prima accidenti copia incolla quindi 500 se vogliamo essere più specifici boh send no anzi json non send come abbiamo fatto prima avevamo scritto db error qui qui nell'esempio mi aveva scritto mostremmo potremmo potremmo dobbiamo solo fare un po' attenzione quindi però di per sé possiamo mettere la stringa che vogliamo abbiamo deciso di usare un oggetto chiave error e poi boh una stringa e possiamo anche adesso il param non ce l'abbiamo perché questa era la put vabbè exam code facciamo così exam ok quindi exam code e se vogliamo se no scriviamo database error try again quello che volete quindi format salviamo dunque qui mi sa che c'è un pezzo in più ok proviamo quindi post di nuovo send ok risposta database error come mai perché perché esiste già no esiste già è una chiave primaria non sarà stata aggiunta la seconda abcd eh send e stavolta è andato risposta vuota ed es created ok occhio eh stiamo lavorando con un db che si ricorda le cose va bene la validazione per favore è che è importante e voglio farvi vedere qualcosa come facciamo a fare un po' di validazione tutte le volte che ci sono i parametri nel body o nella richiesta vogliamo fare la validazione allora noi abbiamo visto una maniera molto semplice eh allora importiamo questo validator quindi io lo metto qui come sempre importiamo ciò che serve eh check e validation result erano nell'esempio delle slide express validator è il pacchetto che però andrà installato quindi io adesso faccio salva salva qui sopra non me l'ha preso si è bloccato tutto vediamo un po' ecco non c'è quindi mi raccomando npm express validator ah no scusate install express validator dovrebbe essere abbastanza rapido start ok stavolta è partito non lo stiamo usando adesso andiamo a usarlo andiamo a usarlo abbiamo detto che possiamo inframezzare prima della nostra callback un array di diciamo di di cose da controllare usando quelle funzioni del validator quindi check si inizia sempre con check nome del del dell'elemento da controllare quindi della chiave nell'oggetto json sotto diciamo ma diciamo dallo score che è più facile score due virgola no punto perché funziona così questa libreria no isint verifica che sia un intero quindi c'è una stringa lo converte verifica che si converte in un intero e poi e poi come facciamo a sapere cosa scrivere bisogna andare sulla pagina che avevamo aperto quindi andare a vedere cosa vuole isint e quindi bisogna fare un minimo di ricerca per esempio l'isint prende un oggetto e si dice il minimo al massimo un po' di altre opzioni a noi diciamo che basta dire quindi oggetto min 18 max 31 virgola non mi è chiaro se check vada importato o se serve solo installato check è importato abbiamo installato solo un pacchetto e il check è importato insieme a validation result che ci serve nel pezzettino dopo ok sono due funzioni due normalissime funzioni che abbiamo importato da un pacchetto esterno check ok non c'è problema code il codice che cosa deve avere il codice? boh se non abbiamo niente di particolare potremmo dire non so se è lunghezza fissa o una lunghezza is length che poi se andate a cercare sul manuale non lo faccio perché abbiamo poco tempo di nuovo min 7 max 7 i codici e poi i tecnici sono fatti così quindi abcd non funzionerà più però l'abbiamo lasciato passare prima quindi certo lo troviamo nel db se lo dovete cancellare dovete andare a cancellarvelo da parte col tool date ecco date qui qualcuno diceva sì potremmo provare a creare un oggetto dayjs eccetera ma se usiamo una libreria usiamo il meccanismo fornito dalla libreria quindi is date c'è e poi vabbè adesso copio perché se no non finiamo più comunque format andate a vedere cosa vuole l'abbiamo già visto nella prima parte della mattinata di solito queste funzioni vogliono degli oggetti perché è più flessibile passare i parametri con degli oggetti chiave valore che dicono che cosa si vuole verificare come facciamo a recuperare il risultato della validazione avevamo visto che c'è una funzione che si chiama validation result a cui dobbiamo passare rec ok e di cui prendiamo il risultato const errors la variabile il nome che diamo noi e poi facevamo copiando dalle slide praticamente if not errors errors è un oggetto restituito da questa libreria che ha un metodo is empty allora se is empty non ci sono problemi e se non lo è noi facciamo return errore quindi res status che status mettiamo dunque status di nuovo ragioniamo sugli status sicuramente un problema c'è qualcosa che non va qui nell'esempio mi ha scritto 422 ma unprocessable entity può essere se non sapete cosa fare c'è sempre il codice generico è come il 200 400 400 può andare benissimo se vogliamo fare i fini usiamo qualcosa di più specifico 422 ma se scriviamo 400 andava bene lo stesso json se vogliamo dare un messaggio in errori diamoli così facciamo pratica errors li possiamo estrarre dallo stesso oggetto errors array con il metodo array ok errors abbiamo deciso noi che è la chiave del nostro oggetto json errors questa è la variabile che abbiamo usato qui e qui che ha un metodo perché array che ci ha messo a disposizione dalla funzione che abbiamo importato che ci fa la validazione ok e boh direi che quindi validazione fatta almeno di massima poi certo che non è che posso sapere se la chiave esiste già questo me lo potrà dire solo il db se la chiave esiste già è duplicata e non si può inserire però almeno ho verificato che il codice è 7 e il voto è un intero tra 18 e 31 e la data è un formato ragionevole poi se voglio fare altri controlli posso fare posso verificare che la data sia almeno pare alla data di oggi se non voglio che si inseriscano esami vecchi anzi forse che non sia nel futuro perché non ho ancora dato anzi gli esami vecchi probabilmente voglio inserire vabbè comunque posso fare tutti i controlli logici che ritengo poi è chiaro che ci sono dei controlli diciamo di coerenza dei dati che può farli solo il database ok come appunto la chiave unica salvo provo facciamo appunto rest client la nostra stessa richiesta quindi sempre code score eccetera vediamo cosa esce fuori unprocessable entity 422 risposta abbiamo un oggetto di risposta forse si può ingrandire sì abbiamo un oggetto di risposta errors con le virgolette l'oggetto trasformato in json e questo è quello che ci dà la libreria la libreria ci crea un array con degli cosa ci crea no ci crea un array con un unico elemento in cui ci sono tutti i problemi sotto forma di oggetto chiave valore quindi c'è un value abcd messaggio invalid value parametro code location body ah no scusate c'era solo un errore per questo che che ci ha dato un array con un solo errore con un solo valore ecco mettiamo 35 send risposta spuntano fuori i due errori e quindi per questo che è un array perché possono esserci più errori ok facciamo qualcosa che funziona abcd e01 score 31 ok send o è andato no response no dobbè headers 201 created ok database db db questo mi sa che db va chiuso e riaperto oppure ho aperto quello sbagliato ma mi sembra che siamo in server eccoli qua ok quindi questa è la roba che ho inserito occhio questi due sono entrati perché non c'era la validazione ci fosse stata la validazione e nessuno mi sporcava la mia base dati se voglio posso controllare che i primi due sono i numeri maiuscole tutto quello che voglio ok esiste anche un modo per controllare che ci vengano inviati solo questi tre campi code score date pure se vengono inviati anche altri campi non è un problema non lo gestiamo e quello che vi dicevo prima esiste un modo sì il modo può esistere nel senso che se io posso posso andare a verificare quanti sono le chiavi nell'oggetto deve esserci un metodo adesso non mi ricordo più in javascript che ci tira fuori il numero di chiavi dell'oggetto cos'era properties qualcosa di questo tipo no? quello che non va ricorsivamente sui prototypes che ci dice quanti sono dobbiamo vedere la lunghezza e quanti sono o il valore non so se ci da direttamente il numero o ci da un array e dobbiamo guardare la lunghezza dell'array comunque se vogliamo possiamo fare questa diciamo cosa se noi però facciamo questa operazione non passiamo direttamente esame quindi isoliamo ciò che viene ricevuto dal body a questo livello estraiamo solo le tre cose possono esserci 50 campi ma noi tanto ne estraiamo tre gli altri li buttiamo tutti via ed è per questo che ci ho tenuto a fare queste operazioni che sembrava un po' come dire inutile no? proprio per evitare di passare alle altre funzioni più interne cose che non ci servono no? poi è vero che c'era un secondo livello diciamo di isolamento perché comunque qui estraiamo solo tre campi ok? però diciamo che più livelli di isolamento mettiamo e meglio stiamo perché appunto è una questione di programmazione difensiva magari da qualche parte prima o poi ci sbagliamo i programmi diventano sempre più complessi e se non è fermato da una parte è fermato dall'altra è una buona pratica ok un'ultima cosa che voglio farvi vedere sì perché siamo 11.30 ma abbiamo visto più o meno tutto quello che c'era da vedere occhio che usare questa sintassi è ciò che si deve fare i punti interrogativi so che sono antipatici qualcuno dice ma non riesco a costruire la query come voglia eccetera questi ci salvano da un altro problema ossia il fatto che qualcuno come valore magari riesce a farci passare un pezzo di sql adesso vabbè qui abbiamo verificato sono sette caratteri sette caratteri si può scrivere poco però se fosse non so un identificativo una stringa da memorizzare nel database perché non so il nome l'attività del task il titolo del task eccetera se io qui non uso i punti interrogativi e mi faccio fare la sostituzione dalla libreria ma ci scrivo values chiuse virgolette più exam punto code code no più eccetera cioè la query funziona il problema è che prendiamo ciò che arriva da fuori e lo usiamo nella query che non va bene si chiama sql injection cioè prendiamo dei caratteri che arrivano da fuori e li eseguiamo come query se qualcuno c'è scritto drop table giusto per fare un esempio punto e virgola drop table punto e virgola in database e si cancella la tabella ok quindi questa cosa assolutamente da non fare ma è già una buona pratica che abbiamo introdotto quindi l'uso del punto interrogativo ci serve proprio ad evitare che qualsiasi cosa venga scritto non viene interpretato come comando sql ma come dato dalla libreria ok troverete quindi online visto che abbiamo finito il nostro tempo diciamo una soluzione che farà funzionare anche la put la delete e la ecco forse potremmo aggiungere la validazione che non abbiamo messo prima sulla get sarebbe bene farlo anche qui di nuovo perché perché se no c'è anche qui il rischio che dunque list no get exam create update delete e non c'è ah mi sa che forse l'altro ci manca un metodo vabbè comunque era quello che ci recuperava l'esame no se usiamo il punto interrogativo di nuovo è un'altra salvaguardia però la volta che ci siamo dimenticati del punto interrogativo almeno aver fatto la validazione magari un po' ci salva perché se il codice è corto per dire non si riesce a scrivere un comando SQL complesso non lo so è per esempio ok direi che abbiamo esaurito il tempo nostro a disposizione per oggi è stato un po' intenso e mi rendo conto che potete usarlo solo con questo giocattolo per ora ma la prossima volta facciamo funzionare il tutto dall'applicazione quindi carichiamo gli esami dal server tramite le API che abbiamo progettato oggi API courses API exams e poi piano piano agganceremo anche il resto ok se non ci sono altri dubbi o domande io chiuderei qui perché abbiamo esaurito il nostro tempo magari avete altri corsi altrimenti rispondo ma sì c'è qualcuno che sta scrivendo aspetto solo un secondo e onestamente non so se mettere a disposizione questo codice perché è abbastanza provvisorio diciamo che al massimo metto un rimando sul codice diciamo ben fatto che sarà pubblicato nel reposito da cui siamo partiti ok non vedo domande per cui direi che possiamo terminare qui grazie di attenzione ci vediamo lunedì per il laboratorio e vi farò sapere a seconda del numero di adesioni di nuovo in presenza come lo svolgiamo grazie arrivederci lo sento rotto a seconda del numero a seconda del numero a seconda del numero